Io vengo a trovarti in Marocco, però tu devi venire in Italia a trovarmi. Sì. Cosa facciamo? Cosa vuoi fare? Dove vuoi andare? Non ho parlato di questo giudizio, perché c'è tante persone che hanno visto picchio noi all'ok. Cosa è che? Non ho capito. Questa è una regola di marocchino. E' una regola di marocchino. Dopo, dopo conosci perci. Ok. Va bene? Va bene, va bene. Dopo conosci perci. Ok. Ma dimmi, ma dimmi, cosa voglio fare con me quando andrò in Italia? Dove voglio andare? No. Allora, sai dove ti porto? Ti porto in un posto qua a Milano. Aspetta, aspetta. Ascolto, mociuccio. Le persone che portano me all'aeroporto è Chiara. Chiara che portano me all'aeroporto. Io andrò con Chiara. Io dico loro Chiara che portano me. Non andare con nessuna persona. Io andrò con te. Ok, te lo prometto. Da solo. Io ho promesso, promesso, promesso cinque volte. Ok. Ma sei arrabbiato? Arrabbiato perché c'è tante persone che dicono io prenderei all'aeroporto. Io voglio uccidere. Prendimi. No. Allora, allora te lo dico io. Io non voglio nessuno in aeroporto. Vieni da solo tu. Amore mio, amore mio. Sei più bella del foto che Polari Leonardo da Vinci. Che carino che sei. Sì, sì. Dopo, dopo la notte, vieni portami. Io voglio Chiara. Cos'è che hai detto? Cos'è che hai detto? Ascoltami, ascoltami. Ti lascio la foto che fa Leonardo da Vinci. Eh. Sei più bella, dici. Il suo ok. Grazie. Non lo so cosa dici. Non dici grazie. Io sono il tuo fidanzato. Non dici grazie perché siamo noi. Oh mamma. Sei felice? Sei contento? Sono molto felice. Bene, sono contenta anch'io allora. Sei molto felice. Adesso sono molto felice. Bene, bene. Quando parlare con ci sento caldo. E felice. E qualche volta il fibra. Fibra? Il fibra, il fibra che ti chiedi. E insha'Allah, l'abbia, 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 l'abbia. L'abbia, l'abbia, l'abbia. L'abbia, l'abbia, l'abbia. L'abbia, l'abbia, l'abbia. L'abbia, l'abbia. L'abbia, l'abbia. Io dico quando andrò a casa. Non lo so. Dipende di restare un mese. Un mese? Un mese. Lo so. Io parlare con chi sono più dici. Un mese a casa mia. Dimmi. Un mese a casa mia. Un mese a casa mia. Io dico, dico loro. Dopo, dopo il giorno. Ho incontrato. Io dici, non lo so. Siamo costruendo una relazione adesso. Diamo? Sì. Non ho capito. Ma ho bisogno cambiare i miei capelli per me. Ma non ti piacciono i miei capelli? Io piacciono i miei capelli. Ma guarda che non devi guardare i capelli. Devi guardare il mio cuore. È quello che devi guardare. non i capelli. Vabbè, non lo so. 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 Io dico che io preciso solo. Non lo so. Non lo so. Bravo. Però ascolta un attimo. Se io mi faccio i capelli aranci, allora li devi fare anche tu i capelli aranci. Io farei come ti voglio. Ti voglio tagliare tutti i capelli e io tagliare. No, no. I capelli aranci. Ti devi fare i capelli aranci. Ma dimmi, dimmi. Voglio cambiare il tuo naso perché non mi piace il mio naso. Lo vuoi cambiare? Io voglio cambiare il mio naso perché è grande. No, non devi cambiare niente. Così bene? Così buono? È un naso, è un naso da uomo quello. Il vero uomo. Ma ti voglio tagliare tutti i capelli. Ti voglio. Così bene? Così bene? Non devi cambiare niente. Non c'è problema alla mia epoca. No, nessun problema. No, nessun problema. No, perché l'hai aperta. Ma il mio cuore è grande. Sì. Il tuo cuore è grande come la tua bocca. Sì. È grande. Showtime, grazie a mio fratello. Sì. Adesso siamo innamorato. Ciao Showtime. Ho visto come parlare con la mia moglie del futuro. Sì. Quindi io non posso parlare però con nessuno, vero? Sì. Io non posso parlare con nessuno. Sì. No, io, io. Sì. Dico io. Non posso parlare con i ragazzi. Sì. No, no. Io fido a te. Io fido a te. Fare come ci voglio. Io fido a te. Sì. Tu ti fidi di me. Ma perché ci piace a me? Come? Ci piace a me. Se tu mi piaci? Sì, mi piace a me. È una domanda o un'affermazione? Non ho capito. È una domanda. Io, io, io. Ci piace a me. Allora, tu sei una bellissima persona. Sì. Ok. Quindi quando poi io e te ci vedremo, che verrò magari in Marocco a trovarti, ci conosciamo. Ci conosceremo. Sì. Conosceremo dopo. E poi posso dire se mi piace o no. Capito? Dopo che ci siamo conosciuti. Come hai visto adesso? Non c'è in Marocco. Adesso come hai visto? Non ho capito. Magari, magari vieni in Marocco. Sì. Come hai visto adesso? Adesso come ti vedo? Ma fisicamente? Sì. Che sei un bel ragazzo. Un bel uomo. Un bel uomo. Un bel uomo. Un bel uomo. Figuro amici. Non fare il furbo. Non faccio il furbo. Io dico che sei un bel uomo. La mia faccia è bella. Però ti dico una cosa. Mamma. Dimmi. Io non guardo se sei bello. Qua. Io guardo se sei bello qui nel cuore. Anche io. Anche io sono grande cuore. Ma dimmi cosa, cosa, cosa... Niente. L'apparecchio dei denti. Io sono visto una cosa. È per i denti. Showtime. Grazie fratello mio. Showtime. Vieni qua in Marocco ma non l'estate. Fai attenzione. L'estate viene la mia fidanzata. Dopo l'estate. Dimmi, dimmi Chiara. Cosa, cosa? È per i denti, per i denti. No. Ha questo. Sì, è il piercing alla lingua. C'è un problema alla tua lingua. Sì, ho un problema alla lingua. Ho fatto io, un po' di tanti anni fa, ho fatto il buco alla lingua. Perché? Così, perché mi piaceva. Fare, fare così, per vedere. No, 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 privato. Continuiamo privato. Privato, non qui davanti a tutti. Privato, privato. Lo vuoi fare anche tu? Sì, 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 sì. Mi amore. Dimmi. Ci vediamo dopo al privato per parlare di cose private. Va bene. Va bene. Io rimango qui a guardare la tua diretta. Va bene. Fare saluto in Teresa. Ciao. Ti saluto anche lei. Teresa. Mi fai così con la mano. Mi piace molto Teresa. Ci vediamo. Ciao. Conciniamo. Grazie mille. Ciao. Io voglio bene. Come? Ascolta, Muciucci. Io voglio bene questa ragazza. Anche da domenica, anche io. Anch'io ti voglio bene. Anch'io. Va bene. Ciao. 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 Ciao